Voglio iniziare la cena e siccome il salone è un po' grande riesco a ringraziare qui tutti voi per essere numerosi a questa festa questa festa e questa mostra la dedico a mio padre e voglio ringraziare i tantissimi artisti che stasera mi hanno, mi sono stati vicini e anche tutti quelli che oggi vanno in musica non sono più divenuti una galleria esiste se ci sono gli artisti e io sono sicuro di essere privilegiato perché so di avere degli artisti storbiliari che lasceranno un segno non solo nella storia di questa città ma un segno in evento nella storia dell'arte quindi grazie a tutti voi e grazie a ciascuno di voi che qui stasera ha avuto un ruolo nella storia modesta o brillante della mia galleria perché una galleria non è qualcosa che esiste a prescita una galleria esiste se riesce a diventare legata a un luogo e io ho cercato di essere come mi hanno detto spero di impersonificare Napoli e a Napoli viene il mondo e quindi anche questa sera il 50% degli invitati a Napoletà è il 50% che è da fuori Napoli, dall'Europa, 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 dall'Europa quindi grazie a essere così tanti a Napoli grazie veramente di cuore a tutti e adesso andiamo a cena grazie a tutti